Un piccolo incidente, io volevo fermare la mia... Ascolami, buonasera. L'ironia di Pulpito e Marti, la voce di Benedicta Boccoli, la verve di Maurizio Micheli, l'eleganza di Raffaele Paganini, stelle in scena per dare una mano ad altre piccole stelle che dovranno risplendere, i ragazzi dell'Accademia del Cinema di San Pio, una realtà che pian piano si è affermata a livello nazionale e che rappresenta un faro in un quartiere per molti versi ancora abbandonato, il Rotary Club Bari Mediterraneo, Dani sostiene il progetto dell'Accademia del Cinema e per questa stagione ha deciso di organizzare uno spettacolo al Petruzzelli chiamando a raccolta grandi artisti nazionali pronti a sostenere la causa dei ragazzi. Lo spettacolo Una Mano per le Stelle appunto perché il Rotary ha adottato questi ragazzi come le future stelle del cinema italiano e quindi Una Mano per le Stelle appunto perché noi ci auguriamo che ognuno di loro possa diventare una futura stella del cinema. Come finirà il ricavato di questa serata? Serve una cosa pratica? Sì, e noi stiamo continuando a ristrutturare una scuola che il Comune ha dato, ha concesso grazie anche al nostro intervento all'Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto e stiamo ristrutturando una sala cinematografica, un vero e proprio cinema per un quartiere che sino a ieri non aveva nulla.